Il giorno e la storia. Oggi è il 9 dicembre. 1987. Inizia la prima intifada palestinese. 1990. Polonia. Prime elezioni dirette. L'Ecvaguenza, capo di Solidarnosc, eletto presidente. 1920. Nasce Carlo Azzeglio Ciampi. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. A 40 anni la legge che sancisce la parità di trattamento fra uomo e donna sul lavoro e prende il nome di Tina Anselmi, paladina delle pari opportunità.